Logicamente è una soddisfazione perché è anche un po' il coronamento di una bella annata che abbiamo fatto sia come collettivo sia come individualità alle zebbre quindi sicuramente è una cosa piacevole che mi sprona sicuramente come stimolo a dare di più, a cercare di servire e di essere comunque inserito nel gruppo in particolar modo visto che comunque sarà la mia prima da 13 insomma quindi sicuramente è una cosa positiva sia a livello personale spero che possa essere per il gruppo perché vorrei dare anche io il mio contributo per cercare di andare a fare quello che dovrebbe essere una partita di riscatto dopo le tre prestazioni che abbiamo fatto vogliamo cercare di vedere che abbiamo anche un quid in più da poter mettere in campo Beh logicamente in campo e fuori dal campo sembrano sempre due prestazioni diverse insomma pure quando uno si riguarda dopo la partita si rende conto di quelle piccole sfumature che possono dare un momento di energia in più alla squadra piuttosto che toglierlo mi riferisco magari appunto alla Francia entriamo diciamo nello spogliatoio che stiamo sotto meno di cinque punti invece diciamo con dei momenti tattici che sbagliamo insomma non riusciamo a dare un po' un'inerzia quindi un momento con la partita e magari andiamo a subire poi quello che in realtà era una squadra che poteva essere alla nostra portata quindi sì è vero comunque merito loro anche un po' de merito nostro quindi dobbiamo cercare di fare un focus su quello che noi dobbiamo cercare di portare in campo e di rimanere attaccare diciamo comunque alle nostre strategie e ai nostri piani di gioco per cercare appunto di affrontare al meglio la partita loro hanno comunque profondità in senso sono nazionali che si possono permettere anche di fare dei cambi anche per gestire e cercare di creare ormai una profondità che serve anche diciamo in un'ottica a medio termine visto che ci sarà un mondiale a breve e per loro magari fare sordire dei giovani è una cosa anche importante quindi magari verrà meno l'esperienza può avvenire comunque invece alla ribalta insomma la loro voglia di giocare quindi non sono mai personaggi o comunque squadre che vanno sottovalutate per questo logicamente hanno cambiato molto ma dovremmo essere diciamo anche noi bravi a imporci magari giusto l'unica cosa che potremmo sfruttare magari non saranno ben amalgamati come diciamo collettivo e quindi cercare di sfruttarlo a nostro favore questa cosa è un'ottima cosa che potremmo sfruttare